Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Non sono un sistemista e ho sempre delegato ad esperti la configurazione di server, ma una postazione Linux serve un utente alla volta ed è un'altra cosa. Ecco una serie di consigli in tema di sicurezza e privacy di una postazione Linux. Sono rivolti, come sempre, a principianti. La sicurezza assoluta non esiste e non si può restare indietro neppure di un giorno, ma a mio parere una sottile linea separa l'aspirazione ad una ragionevole sicurezza del computer di tutti i giorni di un utente comune dalla paranoia. Per il primo caso ci sono soluzioni, per il secondo non lo so. Informazioni tranquillizzanti circolano sul basso impatto di virus destinati ad ambienti Linux, specie perché i suoi utenti sarebbero una minoranza. Statistiche autorevoli dicono però il contrario. Il blog di CrowdStrike sostiene che nel 2021 rispetto all'anno precedente sia stato scoperto il 35% in più di malware destinati a colpire proprio Linux. Il dato è certamente dovuto al gran numero di server Linux che gestiscono la maggioranza dei servizi web e di posta elettronica. Secondo altri, anche all'allargarsi del fenomeno definito IoT, Internet delle cose. Elettrodomestici intelligenti e dispositivi poco potenti, basati su kernel Linux e dotati di scheda di rete ed indirizzo IP, rappresentano infatti una ghiotta occasione per fare breccia nelle nostre reti domestiche. Spesso poi è l'utente che compromette inconsapevolmente la sicurezza della propria installazione. È quindi fondamentale saper gestire al meglio ogni criterio di sicurezza che si intende adottare, oppure non inoltrarsi in un terreno troppo complesso con il rischio di peggiorare le cose piuttosto che migliorarle. Per tranquillizzarti però ti segnalo anche statistiche fatte da Project Zero, il team di Google che si occupa di sicurezza informatica. Project Zero rileva che gli sviluppatori di Linux e di Mozilla stracciano letteralmente anche Apple e Microsoft quanto a rapidità nel risolvere con aggiornamenti e patch le rare vulnerabilità scoperte. Insomma, dai, un utente comune può usare Linux nel computer di tutti i giorni in modo più sicuro rispetto a sistemi operativi commerciali, purché non sia coinvolto in attività illecite o bersagliato per operazioni personali o attivismo di sorta. Linux adotta in modo nativo diversi accorgimenti di sicurezza, come la differenziazione dei permessi per i singoli utenti e per i gruppi cui essi appartengono, molte distribuzioni GNU Linux disattivano per impostazione predefinita l'accesso come utente root. Oppure fanno sì che servizi delicati non abbiano privilegi di root quando non servono. Ubuntu, Linux Mint, PopOS ed altre distribuzioni propongono la criptazione del disco o della cartella home in fase di installazione. Molto utile nel computer portatile o se hai dati importanti in PC accessibili anche da altri. Fedora e le distribuzioni basate su Red Hat Enterprise Linux adottano il modulo SE Linux, Security Enhanced Linux, che innalza la sicurezza di permessi e liste di controllo degli accessi isolando le applicazioni in compartimenti stagni, le cosiddette sandbox, che sono altamente configurabili. AppArmor per Ubuntu svolge compiti analoghi ed è preinstallato e preconfigurato anche in altre distribuzioni tra cui Linux Mint. Se adotti un desktop KDE, Plasma Vault permette di creare cartelle criptografate che puoi salvare ovunque. Talvolta però l'utente modifica configurazioni iniziali per soddisfare le proprie esigenze e i cambiamenti tengono raramente in considerazione l'aspetto della sicurezza. Questo può risultare pericoloso quando si eseguono servizi, perché si rischia di lasciare una porta del proprio PC aperta a tutto il mondo. Per cominciare, esegui frequenti backup dei tuoi dati. Può sembrare banale e fuori tema, ma eseguire frequenti backup dei tuoi dati personali azzera le conseguenze di molti eventi dannosi. Se li salvi in un supporto differente da quelli in cui tali dati risiedono stabilizzati, facilmente. L'ho detto anche in altre occasioni. Un sistema operativo compromesso anche solo per esperimenti maldestri può essere reinstallato e reconfigurato con un minimo di sforzo. Per dati personali, importanti, persi, non c'è soluzione. Puoi dare la colpa a qualcun altro o ad un bug, è umano, ma lontano dalla realtà. Regola numero 1. Applica subito gli aggiornamenti. Ho citato la rapidità degli sviluppatori Linux nel risolvere problemi di sicurezza. Perché questo ti sia utile, il più importante accorgimento è quello di applicare prontamente gli aggiornamenti di software, di sicurezza e del kernel non appena si hanno resi disponibili. Ciò anche perché, appena una falla viene scoperta, i dettagli divengono di dominio pubblico e quanto più attendi ad aggiornare, più sei esposto. Se non hai problemi di soglie dati o se non vuoi provvedere manualmente, puoi impostarne l'installazione automatica. Linux Mint, ad esempio, aprendo gestore aggiornamenti dall'icona a scudo nel pannello Applet, ti consente di includere anche Flatpak, Applet e Desklet, oltre ai pacchetti software dai repository. Voglio rimarcare questo aspetto. Applica prontamente gli aggiornamenti e non utilizzare un sistema operativo dopo la scadenza del periodo di supporto e sarai già ad un ottimo punto. Anzi, puoi fermarti qui. Le indicazioni che seguono fanno volume, ma sono rifiniture, però totalmente inutili se il sistema non è aggiornato. Un antivirus? Non necessariamente. Avrai sentito spesso dire in giro che Linux non ha bisogno di antivirus e penso si possa essere d'accordo in linea di principio. Se ti limiti ad installare software dallo store della tua distribuzione, hai certezza che sia verificato e sicuro. Quando un raro problema viene scoperto, come anticipato, gli sviluppatori Linux sono rapidissimi a porvi rimedio e riceverai prestissimo un aggiornamento. Che Linux, almeno in una cosiddetta workstation, non sia un sistema per cui preoccuparsi di installare un antivirus lo dimostra anche il fatto che l'autorevole istituto indipendente AV-Test, che verifica e documenta prestazioni ed efficienza di antivirus gratuiti e commerciali, prende in considerazione solo Windows, macOS e Android. Antivirus per Windows, tra cui Nord32, Comodo, F-Secure e Sophos, prevedono anche versioni per Linux, ma le definizioni dei virus includono di regola solo quelli noti per ambiente Windows. Se la tua postazione Linux è in rete, assieme a numerose postazioni Windows, uno di questi antivirus può aiutarti a limitare la diffusione di minacce a beneficio degli altri, ma non direttamente a te. Se adoperi Wine per eseguire programmi per Windows, puoi rendere il tuo sistema vulnerabile alle minacce per Windows, e allora un antivirus fa comodo anche a te. Questa è una delle ragioni per cui sconsiglio di usare Wine e suggerisco casomai di mantenere una partizione Windows se proprio credi di non poter fare a meno di software, prodotti da aziende che degli utenti Linux se ne fregano. Un antivirus proprio per Linux esiste, è Clam-Av. Se non vuoi usarlo da riga di comando, puoi scaricarlo con interfaccia grafica cercando nel tuo centro software il pacchetto Clam-TK. Il programma magari non è aggiornatissimo, ma le liste di definizioni di virus sono ancora saltuariamente aggiornate. L'installazione di Clam-TK non include anche il demone dell'antivirus, cioè il servizio che resta sempre in esecuzione per monitorare ogni file che apri. Questo è bene perché può rallentare il sistema e utilizzare molta memoria. Puoi effettuare scansioni di file e cartelle manualmente, oppure pianificare controlli, ad esempio nelle ore notturne, della tua cartella home e del suo contenuto. Di controllare il resto del sistema non c'è bisogno. Non è indispensabile, ma puoi anche integrare liste di definizioni non ufficiali in Clam-Av. E StreamShock è una fonte fidata. Sono incluse le definizioni previste per uno strumento chiamato Linux Malware Detect. Ampliando l'elenco delle definizioni però possono aumentare anche i cosiddetti falsi positivi. Con i moderni modem router a gestire le nostre connessioni in casa e ufficio, alcuni sostengono che attivare il firewall in una postazione singola non sia davvero indispensabile, perché Linux di fatto non apre porte accessibili dall'esterno verso il tuo PC. Ma molti sostengono il contrario. Nel video post installazione di Linux Mint 20 suggerisco, anzi lo suggerisce il team nella schermata di benvenuto, di attivare immediatamente il firewall attraverso l'interfaccia grafica preinstallata insieme al firewall UFW. Non solo in Linux Mint ma in tante altre distribuzioni GNU Linux. Se usi sistemi peer-to-peer come la gloriosa rete iDonkey, ancora funzionante, o Torrent, o anche per le condivisioni in rete locale con Samba o Warpinator, dovrai aggiungere specifiche regole perché il tuo computer sia raggiungibile da questi servizi. Ce ne sono tante già preconfigurate e suddivise in categorie. Una volta trovato il servizio che vuoi rendere accessibile, basta un click su Aggiungi regola. I più smanettoni, e io con l'avanzare dell'età lo sono sempre meno, saranno anche in grado di riciclare un vecchio computer o usare una Raspberry Pi con un paio di schede di rete per creare un firewall a hardware. Non è proprio in tema con l'argomento ma negli anni molti modelli di router sono risultati affetti da gravi vulnerabilità. Ti consiglio di verificare il firmware del tuo router e se possibile aggiornalo. Ma prima ancora suggerisco di cambiare le password preimpostate dal produttore del dispositivo o dal fornitore di servizi internet. Se non conosci i concetti di repository e PPA, ne ho parlato nel video Verificare e installare programmi in Linux. Comunque i repository sono archivi di software installato e installabile nella tua distribuzione GNU Linux. Quelli preimpostati sono definibili ufficiali, contengono pacchetti e programmi verificati e sono quindi sicuri da installare. Puoi aggiungere alle tue fonti software fidate anche repository di terze parti e per le distribuzioni basate su Ubuntu nuovi PPA. Puoi anche installare programmi da file DEB o RPM scaricati da internet. Ma tutti questi programmi di regola non sono testati né verificati dagli sviluppatori della tua distribuzione GNU Linux. Perciò possono compromettere la stabilità oltre che la sicurezza del sistema. L'aggiunta di un PPA alle fonti software autorezza chi lo gestisce ad immettere nuovi pacchetti nel tuo sistema. Come è facile intuire si tratta di enormi privilegi. Anche l'installazione da un pacchetto scaricato da internet può aggiungere un repository alle tue fonti fidate senza che tu lo sappia. Lo fa anche Google Chrome ad esempio. Immagina le conseguenze se installi un pacchetto di cui non sia garantita la provenienza. Non sto dicendo di accontentarti dei programmi che trovi nel centro software della tua distribuzione GNU Linux, anche se ormai sono in grado di integrare programmi di ogni genere. Ma sono effettivamente gli unici che puoi installare con la massima tranquillità. È bene ricorrere a PPA solo se non c'è l'alternativa per utilizzare al meglio un determinato programma. E anche per quanto riguarda file DEB, RPM o APK scaricati da internet ci vuole buonsenso. Se il programma è assai noto oppure scarichi driver di scanner e stampanti dai siti ufficiali dei produttori, una volta verificata, se possibile, la firma del file puoi certamente fidarti. Ma non scaricare e installare programmi di cui non hai mai sentito parlare prima di aver accertato su internet o nei forum della tua distribuzione. Oppure verifica se esistono tutorial o recensioni che lo riguardano. Ma anche che queste informazioni provengano da molteplici siti web noti ed affidabili. Limita il ricorso a operazioni con autorità root. L'accesso ad una sessione desktop come root vanifica molti criteri di sicurezza a cui ho accennato all'inizio. Tanto che molte distribuzioni come Ubuntu o Linux Mint disattivano tale account per impostazione predefinita. Le applicazioni che usiamo quotidianamente sono previste per essere eseguite con permessi di utente non amministratore e non possono quindi modificare il sistema sottostante. Solo compiti di amministrazione del sistema dovrebbero venire eseguiti con privilegi di root e solo in caso di bisogno. Ad esempio, ricorrendo al comando sudo prima di altro comando, stai temporaneamente attribuendoti privilegi di amministratore di sistema per eseguirlo. L'uso inconsapevole di sudo, quando non necessario, oltre a costituire un rischio per la sicurezza, può anche solo compromettere la stabilità del sistema e causare problemi di vario genere. Ad esempio, se lanci da terminale con sudo un programma di uso quotidiano, saranno creati file e cartelle di cui root è proprietario e non il tuo utente. Ed è anche possibile che la proprietà di file e cartelle di configurazione sia rimossa dal tuo utente ed assegnata a root. Si dice che l'unica password sicura sia una tanto complessa che non puoi ricordarla. Se ci mettiamo il numero di servizi, account e relative password di cui ognuno di noi dispone oggi, ci sarebbe di che impazzire. Se non affidi le tue password più importanti ad un browser che per sincronizzarle le spedisce in giro per il mondo e non le salvi in un documento di testo, già sei a buon punto sulla protezione dei tuoi dati personali. Per semplificare e rendere più sicura l'archiviazione di credenziali come quelle relative ad identità digitale, banche o altro, consiglio di ricorrere ad un password manager. Tramite il centro software della tua distribuzione GNU Linux troverai sicuramente KeyPass Password Safe, KeyPass X o KeyPass XC. Sono simili ed anche il nome può creare confusione, ma si tratta di progetti differenti. Il ricorso ad una di queste utilità open source consente di impostare un'unica password per proteggere, con robusti algoritmi di cifratura, un infinito database di credenziali. In quanto open source il codice sorgente è ispezionabile e ispezionato. Non spiano ciò che vi conservi né trasmettono dati chissà dove. Rappresentano quindi un'ottima opportunità di limitare rischi di far finire dati assai sensibili nelle mani sbagliate in caso di compromissioni del sistema o smarrimento del computer portatile e li consiglio vivamente. Verificando gli screenshot dalle singole pagine o installandoli potrai scegliere quello che più soddisfa le tue esigenze. Il programma certamente più usato in ogni dispositivo e non solo nel computer con Linux merita una serie di approfondimenti a parte, anche se non è argomento che interessi soltanto Linux. Ovviamente non c'è pace per gli sprovveduti alla ricerca di software pirata, streaming illegale e compagnia brutta, perché sono i primi responsabili di fughe di dati dal proprio computer. La prima regola vale ancora. Applica tempestivamente gli aggiornamenti rilasciati per il tuo o i tuoi browser preferiti e avrai già fatto molto. Puoi anche scegliere uno dei browser particolarmente orientati alla sicurezza come Brave oppure Opera. Ne ho parlato a proposito di browser alternativi per GNU Linux. Molti di essi bloccano in anticipo annunci pubblicitari che tracciano le tue attività o ti identificano, oppure integrano un servizio gratuito di VPN come nel caso di Opera. Usa motori di ricerca che non ti identificano e non ti tracciano. Non c'è vera sicurezza senza privacy. I motori di ricerca web tradizionali vogliono sapere tutto di te e di ciò che cerchi, per fornire agli inserzionisti informazioni su di te. Questo consente di mostrarti attraverso le pagine di risultati, ma non solo, annunci pubblicitari molto rispondenti ai tuoi interessi. Finalmente si stanno facendo strada anche modelli di business differenti. Motori che si sostentano certamente, grazie alle pubblicità pagate da inserzionisti, in base ai tuoi termini di ricerca. Però non intercettano, non salvano e quindi non rivendono alcun dato. Che si tratti del tuo dispositivo, delle tue abitudini e delle tue informazioni personali. Certamente il più noto motore di ricerca alternativo è DuckDuckGo e merita la sua crescente popolarità. Se già lo conosci e lo usi, un'occhiata alle informazioni aggiuntive fornite sulla sua filosofia ti renderanno ancora più contento di usarlo. Scoprirai che Google ti traccia non solo sulle sue applicazioni, ma anche sul 75% dei siti web al mondo che ospitano campagne AdSense. Quando entri nelle impostazioni di DuckDuckGo scopri tantissime interessanti funzioni, come la possibilità di disattivare completamente gli annunci sponsorizzati dai risultati. Però in cambio ti chiede almeno di contribuire a far conoscere e adattare il motore di ricerca ad altri. Puoi anche usare Bangs, scorciatoie per cercare direttamente tra le pagine di siti web tra i più noti, disattivare il caricamento automatico di immagini o video e passare i parametri delle tue ricerche con metodo POST anziché GET del linguaggio HTML senza che i termini siano visibili nella barra dell'indirizzo. Il mio motore di ricerca è Startpage. Mi ha ispirato simpatia e fiducia fin dall'inizio. Grazie anche alle pagine esplicative del suo funzionamento. Scopri che il tuo indirizzo IP ed altre informazioni personali non vengono salvati nel primo livello di server. I tuoi termini di ricerca sono quindi trasmessi ad un secondo livello di server che li confronta con i risultati di Google, per restituirteli in forma anonima. Con Startpage posso passare comandi e opzioni di ricerca avanzate di Google per raffinare ricerche, conoscere quali e quante pagine sono indicizzate di un sito web, verificare quali contengono un link che rimanda a siti miei o di miei clienti. Startpage offre anche un servizio a pagamento per la gestione di email crittografata. Solo estensioni e plugin del browser necessari. L'importante è sapere che estensioni e plugin per funzionare di regola tracciano ogni attività di navigazione e finiscono in mano a chi le realizza. Spesso però durante sessioni impropriamente chiamate anonime o private tali estensioni non sono abilitate e quindi questo non succede. È comunque buona regola limitare il numero di estensioni e plugin sia per motivi di sicurezza che di prestazioni e stabilità, ma alcune sono molto utili per la sicurezza e per la privacy e mi sento di segnalarle. Adblock è la mia estensione preferita contro le pubblicità invadenti, per Firefox, per Chrome e Chromium ed è preinstallata in Brave. Consente di bloccare gli annunci più invadenti che si trovano durante la navigazione. Si possono modificare le impostazioni anche in modo più aggressivo. HTTPS Everywhere, disponibile come estensione per Firefox e nel Chrome Web Store, per i siti che lo consentono passa automaticamente dal protocollo non sicuro HTTP a quello sicuro HTTPS. Così viene cifrata ogni comunicazione tra te ed il sito, impedendo che le informazioni siano trasmesse in chiaro. Questo consente di proteggersi da diverse forme di sorveglianza indesiderata delle attività, da sottrazioni dati e alcune forme di censura. NoScript, anch'esso disponibile per Chrome e Firefox, consente di disattivare l'esecuzione di programmi potenzialmente pericolosi o lesivi della privacy che sfruttano i linguaggi JavaScript, Java e l'ormai tramontato Flash Player. La disattivazione completa che trovi spesso tra le impostazioni dei singoli browser può imprudire di fruire al meglio di tanti servizi web. Con NoScript puoi creare apposite regole per autorizzare a vari livelli i siti web che ritieni più raccomandabili, come quello della banca, ad esempio. Visto che solo le singole funzioni dei linguaggi citati sono autorizzate, ciò consente di proteggersi anche da nuovi e futuri stratagemmi che malintenzionati cerchino di sfruttare. Firefox Multi Account Containers impedisce anzitutto che un sito aperto in una scheda possa accedere anche ai cookie e alle attività che stai compiendo in altre schede, che è purtroppo la regola. Per esempio, tieni aperto Facebook in una scheda e il signor Z otterrà informazioni anche su ciò che stai facendo nelle altre. Questa estensione consente anche di tenere aperto un servizio come un social o Gmail con account differenti contemporaneamente senza alcuna interferenza tra di essi. Alla chiusura del browser i cookie sono eliminati automaticamente. Purtroppo non mi risultano estensioni nel Chrome Web Store con le medesime possibilità o che funzionino altrettanto bene. Il Dark Web o Darknet, la terra dei domini Onion e luogo di attività illegali di ogni genere. Ma non c'è solo questo per fortuna. Ed il meccanismo su cui si basa la navigazione Tor è assai valido per incrementare privacy anonimato nelle tue attività online. Normalmente la richiesta di visitare una pagina web viene passata dal tuo provider internet al gestore del sito. Ottenuta la risorsa che stai chiedendo, essa compie il cammino inverso per tornare alla tua postazione. Se il sito web adotta un certificato SSL, il browser mostra un lucchetto chiuso accanto all'indirizzo. Ciò indica che le comunicazioni sono scambiate attraverso il protocollo sicuro HTTPS. E anche se intercettate nel tragetto, la cifratura garantisce che siano incomprensibili allo spione di turno. Attraverso la rete Tor, invece, la richiesta di una risorsa web viene passata, sempre in forma cifrata e sicura, ad un server tra le migliaia gestiti gratuitamente da volontari in tutto il mondo. Dal primo viene passata ad un secondo, poi ad un terzo. Ogni nodo della rete Tor può trovarsi in un luogo differente del pianeta, ed ogni passaggio avviene con una differente connessione sicura. Identificarti diviene quasi impossibile per il gestore del sito che stai visitando. Il tuo provider internet o l'amministratore del tuo wifi o router possono sapere che stai usando Tor, ma non sapranno cosa stai facendo. Il modo più semplice per sfruttare la rete Tor è quello di scaricare Tor Browser per Linux dal sito web del progetto e seguire le semplici istruzioni di installazione di Tor in italiano. Ciò perché browser differenti da quello ufficiale, tra cui ad esempio Brave, che integrano nativamente Tor, non garantiscono i medesimi livelli di anonimato. Ricorrere al file ufficiale è anche il modo più semplice per tenere Tor sempre prontamente aggiornato. Il pacchetto Tor Browser Launcher che puoi trovare nel centro software della tua distribuzione, anche se in formato flat pack e più aggiornato di quello dei repositori ufficiali, potrebbe non garantire la stessa rapidità di aggiornamento, che è fondamentale. Circa il ricorso ad un servizio di VPN associato alla navigazione Tor, le pagine di supporto di Tor riportano una serie dettagliata di vantaggi e svantaggi. Per valutarli è indispensabile comprendere a pieno le indicazioni ed essere impeccabili nella eventuale messa a punto. Il minimo difetto di configurazione può peggiorare le cose invece che migliorarle. Sempre a proposito di sicurezza i privacy, benché non riguardino specificamente Linux, vorrei citare i servizi open source e gratuiti di ProtonMail e Tutanota. ProtonMail si propone come alternativa sicura a servizi di posta elettronica comuni perché i tuoi messaggi, contrariamente a quanto avviene di regola, sono inviati in forma criptografata. Riporto la descrizione sintetica del servizio, in italiano, dal sito web. I messaggi sono archiviati in un formato criptato nei server ProtonMail. Inoltre vengono anche tenuti criptati durante la trasmissione tra i nostri server e i dispositivi dell'utente. Anche i messaggi tra utenti ProtonMail sono trasmessi criptati dall'interno della nostra rete. Poiché i dati vengono mantenuti cifrati in ogni passaggio, il rischio che vengano intercettati è pressoché eliminato. Se non ti ispirano sufficiente fiducia a un'azienda svizzera e le rigide disposizioni sulla privacy del paese, ProtonMail garantisce che le chiavi criptografiche con cui i tuoi messaggi sono spediti ai loro server vengono create nel tuo dispositivo. I messaggi risultano quindi indecifrabili anche ai responsabili del servizio. ProtonMail integra un calendario e uno spazio cloud per i documenti che sono anch'essi sincronizzati con i loro server tramite connessioni cifrate. Ma la caratteristica che rende unico il servizio è la disponibilità di un sistema di accesso anche nello spazio dei domini Onion della rete Tor. Ciò significa che se attivi e gestisci il tuo account con il solo ricorso a questo gateway, le tue comunicazioni email oltre che cifrate ti consentono di restare completamente anonimo. ProtonMail è fruibile via web ma sono disponibili anche app per Android e iOS. Offre anche un servizio gratuito, le cui caratteristiche sono piuttosto limitate. Il servizio chiamato Plus ha un costo di circa 4 euro mensili alla data di pubblicazione del video. Prevede più spazio, personalizzazioni e l'invio ad utenti esterni al servizio e contribuisce ad un supporto importante per il continuo miglioramento dei servizi offerti. Tutta Nota è un latinismo che significa messaggio sicuro. Non ha quindi niente a che vedere con abbigliamento sportivo di marca. I principi cardine del servizio offerto da Tutta Nota sono i medesimi di ProtonMail. Le comunicazioni email sono crittografate ma lo sono anche calendario, contatti e file sincronizzati con i server in Germania. Per attivare un account gratuito di Tutta Nota non sono neppure richiesti dati personali. Puoi usare il tuo account Tutta Nota via web ma oltre alle app per Android e iOS sono disponibili anche versioni desktop per Windows e macOS, sempre gratuite. A differenza di ProtonMail, le formule a pagamento per i servizi aggiuntivi sono più articolate. Prevedono differenti tipi di account, dal costo rispettivamente di 1 e 4 euro mensili se versati annualmente e qualche spicciolo in più per i pagamenti mensili. L'offerta di servizi è molto variegata e può essere personalizzata in base a esigenze di spazio fino ad un terabyte, di indirizzi alias, di altri servizi come quelli di condivisione sicura di dati ed eventi di calendario. È anche previsto un servizio che consente di integrare nel tuo sito web un modulo di contatto che si collega direttamente ai server Tutta Nota e tramite cui i tuoi utenti possono inviarti email crittografate. Vorrei chiudere questa lunga panoramica di soluzioni alla portata di tutti per incrementare sicurezza e privacy nella propria postazione Linux citando due distribuzioni che di tali esigenze fanno il loro cavallo di battaglia. Tails è un sistema operativo basato sulla versione stabile di Debian. Viene rilasciato con l'ambiente grafico GNOME. Il protocollo Tor per la navigazione è integrato nativamente. Sicurezza e privacy delle attività internet sono infatti gli scopri primari. A ben vedere molte delle caratteristiche che il sito ufficiale di Tails mette maggiormente in evidenza sono quelle di una comune distribuzione GNU Linux eseguita in sessioni live. Non importa quale sistema operativo sia eventualmente già installato nel disco fisso. L'avvio di Tails da DVD o supporto USB non lo tocca perché Linux viene caricato nella memoria RAM ed ogni traccia di attività svanisce al termine della sessione con lo spegnimento del computer. Di certo è una nota interessante che la navigazione Tor ed altri strumenti utili a fini di privacy siano previsti nel file originale che puoi scaricare dal sito ufficiale. In teoria il sistema diviene meno sicuro ma la chiavetta USB consente di effettuare aggiornamenti o installare nuovi programmi grazie a una partizione cosiddetta persistente. Una pagina di supporto in italiano consente di verificare programmi e funzionalità inclusi in Tails. Quanto a Cubes OS, nella home page campeggia a grandi lettere anche l'apprezzamento da parte di Edward Snowden. Cubes OS ha requisiti hardware molto molto specifici per poterlo installare. Si basa sulla virtualizzazione hardware oltre che software per isolare dall'amministrazione del sistema o dalle applicazioni di uso comune ogni attività che si compia. Sono previsti compartimenti stagni, definiti Cubes, che puoi creare partendo anche da modelli preimpostati per semplificare e rendere più rapido l'uso del sistema. Puoi creare quanti cubi desideri, uno per il lavoro, uno per attività personali, uno per la gestione dei conti bancari e via dicendo. Semplificando molto, grazie alla virtualizzazione, ciascun cubo è come un computer differente con un sistema operativo a sé, eseguito in una specifica finestra. A seconda delle esigenze, i modelli di cubi preimpostati sono basati su sistemi operativi differenti, tra cui Fedora, Debian e Windows. Anche se uno dei cubi viene compromesso, nessuno degli altri, anche se basati sullo stesso modello, può venire scalfito. E una volta che arresti Cubes OS, i rischi di eventuali compromissioni a livello hardware sono assai remoti. Come ogni sistema operativo su base Linux, Cubes OS può essere scaricato in un file ISO da quasi 6 GB dal sito ufficiale o dal circuito torrent. Bene, finalmente ho messo ordine a tante informazioni in tema di sicurezza e privacy su Linux. Credo siano alla portata di principianti cui sempre mi rivolgo. Su certi esperti che mi lasciano commenti alla portata anch'essi del principiante ormai ci conto, perché mi suggeriscono come correggere informazioni incomplete o inesatte, aiutando me, prima di tutti gli altri, a migliorare la conoscenza di questo fantastico mondo del software libero. Grazie per aver visto il video e alla prossima!